Il rimpianto è il risultato perché è immeritato per quello che abbiamo fatto, poi dopo ci sono tante altre considerazioni. La partita è stata fatta al massimo delle nostre possibilità, abbiamo tenuto il totale controllo della partita anche all'inizio. Credo che si recuperava bene palla, siamo stati pericolosi nelle ripartenze, siamo stati pericolosi in 10 contro 11. La partita è stata fatta molto bene, molto orgoglioso della prestazione fatta. C'è il rammarico del risultato che è stato condizionato dalla situazione dell'espulsione di Meret, che è stato un episodio molto controverso, lo è tuttora molto controverso, lo ha toccato, non l'ha toccato. E credo che per eliminare, sarebbe stato molto più semplice consultare il video, visto che c'è, e poi dopo di che decidere, ma mi sembra stato un po' troppo frettoloso, perché uno, Meret non tocca a Ronaldo, due, si può considerare un tentativo di fallo, tre, bisogna considerare se Ronaldo ritornava in possesso della palla, quattro, bisogna considerare la traiettoria della palla, insomma, tutto questo poteva essere chiarito meglio, diciamo, con l'assistenza video, che non è stata utilizzata. Per quanto riguarda il Napoli, ha fatto un'ottima partita, diciamo, poteva essere più una partita da pareggio, visto che loro hanno sbagliato il rigore. Noi, secondo tempo, quando sono rimasti in parità numerica, abbiamo avuto delle difficoltà nel giocare, loro hanno preso coraggio, non abbiamo rischiato tantissimo, perché grandissime parate il portiere non ha fatto, però dopo il 2-1 c'è stato il rigore, dopo il rigore la partita si è chiusa. Per quanto riguarda il cammino in Europa League, io credo che il Napoli abbia tutte le qualità per poter arrivare in fondo e vincere questa Coppa.